Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. E senza pure aver d'alcun riposo salimmo su e il primo e di il secondo tanto che io vidi delle cose belle che porta in cielo per un pertugio tonta e qui riusci a rivedere il mistero. Grazie per la visione!